Perciò, per me, a noi facciamo i vari vari. Quando io faccio il futuro, io facciamo la stessa stima, come l'abbiamo avuto nei cavaliere, che sarà sempre la punta più alta nella storia nostra giura. Poi facciamo la stessa stima, non la stessa stessa, perché la stessa stima non lo dobbiamo esistirle. Ma se stessa 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 stessa, dove lo metterà inタ, e lui ci ha prometto che a Dallia lo porterà, come poi, e che ritardiamo per stare? Vogliamo stare in Dallia? Questo vogliamo stare! Se offre con il tuo poido di dio, non è che... Ora io volevo solo dire che, non ho fatto una cosa, non siete amichevole. Grazie a te per quello che avete fatto. Avere fatto durante la chittà di Dallia, ci sono iniziare. Grazie a te, grazie a te, grazie a te.